Sindaco Mascia, Polo Turistico e dei Servizi, sarebbe questo il primo punto all'ordine del giorno del nuovo governo cittadino? Sì, è così, questo è un aspetto fondamentale del nostro programma che va a completare l'operazione fondamentale che abbiamo fatto in questa zona di riqualificazione della Riviera Sud, proprio per dare ulteriore vivacità a questa parte della nostra riviera, con l'idea di operare subito sull'area ex-cofa per attuare quello che il Partito Democratico di Alessandrini ha reso impossibile, e cioè creare servizi, creare un'area cerniera tra il porto turistico e la città e poi realizzare, proprio qui alle mie spalle, in un'area demaniale che oggi è adibita a parcheggio a raso, un parcheggio da almeno 300 posti, su un piano interrato e due piani esterni, che possa essere di complemento alle attività turistiche e ai servizi presenti in questa zona. La disponibilità di servizi e di parcheggi diventa un pandan fondamentale rispetto all'operazione di riqualificazione per rendere questa riviera bella, attraente e quindi anche utilizzabile e fruibile da parte dei cittadini. È un progetto su cui lavoreremo immediatamente dopo la conferma della mia amministrazione e che è sicuramente di gradimento per i cittadini, per coloro che arrivano in questa zona nel periodo estivo, ma anche non nel periodo estivo, considerata anche la vicinanza del teatro d'annunzio.